Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti voi dalla nostra redazione e da Alessio Buon passo, è il primo appuntamento della nostra informazione, quello in cui come di consueto vi raccontiamo, vi anticipiamo ciò che troverete stamattina in Edicola Quotidiani nazionali, quotidiani soprattutto locali e notizie che hanno caratterizzato la giornata di ieri approfondite dai nostri servizi Quelli realizzati dalla redazione, è sicuramente un giorno importante, quello di oggi in chiave sportiva Insomma, lo avrete visto anche voi ieri, carattere nazionale e internazionale, sono finiti gli europei, ha vinto il Portogallo contro ogni pronostico A decidere la sfida, davvero un eroe per caso, è derra quello portoghese, non evidentemente quello italiano Ma ci sono questioni anche di carattere politico, ma anche cronaca, andiamo a vederli subito insieme alle prime pagine dei quotidiani nazionali Partendo da Repubblica, lo vedete la fotonotizia è quella di Cristiano Ronaldo che è uscito dopo 22 minuti Ma ha vissuto la partita dalla panchina, alla fine ha esultato insieme ai suoi compagni, alzando al cielo il trofeo Il primo storico europeo proprio per il Portogallo è una notizia che evidentemente troverete su tutte le testate Ma andiamo a leggere, Ronaldo K.O. dalle lacrime alla gioia, il Portogallo è campione d'Europa Un gol di Ederra, ai tempi supplementari decide gli europei con la Francia, battuta in finale dal Portogallo Cristiano Ronaldo si infortune a soli 8 minuti all'inizio dopo un contatto, prova a riprendersi e a resistere Poi al 24esimo lascia in campo in Barella, ma alla fine si è conclusa così la sua partita con l'esultanza Dopo appunto il gol di Ederra, ma dicevamo questioni politiche calde, caldissime in Italia Con il referendum e le parole di Matteo Renzi, testa a testa, tra sì e no, indecisi in crescita, sondaggio Demos Poche le firme, si allontana l'ipotesi, spacchettamento nel dettaglio Si assottiglia la distanza tra favorevoli e contraria alla riforma costituzionale Lo indica la rilevazione condotta da Demos Il sostegno è sceso al 37%, 13 punti meno di febbraio e non sono pochi L'opposizione è salita al 30%, cresce anche la percentuale di quanti non si esprimono 33%, il divario tra i due fronti è passato in pochi mesi da 26 a 7 punti Ma tra coloro che si dicono certi di votare si è ridotto a solo i 3 punti Sul piano politico sembra allontanarsi lo spacchettamento dei qui siti L'apertura di Renzi non basta, nella maggioranza sono convinti infatti Che non ci sia lo spazio per dividere in 5 o in 3 la consultazione di autunno In cui davvero il governo Renzi si gioca tutto o quasi Poi fermato leader Black, la protesta nera ancora che dilaga in America 200 arresti, nuove violenze, il killer di Dallas preparava altri tragici attacchi Obama sarà in Texas ai funerali E poi ora in cattedra per competenza, rivoluzione che divide la scuola Ancora una volta, intesa Ministero Sindacati, prof scelti dal curriculum Dal 15 settembre gli insegnanti avranno assegnata la sede non sulla base del punteggio Ma delle competenze Le scuole indicheranno le necessità con un avviso su internet Sceglieranno chi risponde a 4 requisiti richiesti su un ventaglio di 20-30 L'accordo siglato dai maggiori sindacati divide già i professori ancora una volta in Italia Questa è la prima pagina di Repubblica Andiamo a vedere anche quella del Corriere della Sera Centropagina evidentemente la gioia, l'esultanza del Portogallo Primo europeo, all'alzarlo al cielo il capitano Cristiano Ronaldo Che però è uscito dopo 24 minuti a vincere Sono stati soprattutto i suoi compagni di squadra Cristiano Ronaldo però che l'ha vissuta davvero intensamente dalla panchina Di fatto essendo il secondo del suo allenatore Il Portogallo abbatte la Francia Gioia immensa proprio per Cristiano Ronaldo e i suoi Niente riscatto La grande delusione di Parigi Poi il piano italiano sulle banche in crisi al vertice europeo Questa è un'altra notizia caldissima Saldissima in Italia Padoana Bruxelles diviso il fronte dell'Unione Europea E poi ancora in America Più 200 arresti Sventati attacchi terribili Stati Uniti ancora sotto allarme Dopo la strage di Dallas Già oltre 200 arresti per gli scontri di questi giorni Tra manifestanti e forze dell'ordine Le minacce si susseguono Sarebbero stati sventati nuovi terribili attacchi Dallas intanto è blindata per l'arrivo del Presidente Obama Che ha elogiato l'operato della Polizia Questa è la prima pagina del Corriere della Sera Questi i titoli più importanti di carattere nazionale Andiamo sul Sole 24 Ore Qui notizie economiche Ecco dove il fisco pesa di più Andiamo a vedere nel dettaglio Con le simulazioni di Banca Italia In Campania e in Lazio Livelli record in Valle d'Aosta In Porto al Minimo Dalle simulazioni proprio di Banca Italia L'impatto 2015 dei prelievi di regione, province e comuni Sulla famiglia Tipo andiamo a vedere proprio lo specchietto E il grafico E allora differenza percentuale Dell'imposizione locale Rispetto alla media nazionale del 2015 Una media nazionale che si attesta Intorno ai 1.983 Euro Allora lo vedete in Campania Più del 21,8% Lazio più 16,5% Piemonte più 11,4% Liguria più 10,9% Emilia Romagna più 2,9% Molise più 2,8% A chiudere proprio la speciale classifica Con il segno o più proprio in percentuale Rispetto alla media nazionale C'è proprio la Calabria Con un più 0,2% Pubblica amministrazione Sanzioni sprint Anti furbetti Contestazioni Alla dipendente scorretto Entro 40 attore Licenziamento in 30 giorni In vigore da mercoledì Il nuovo procedimento disciplinare Della riforma Madia Andiamo a vedere nel dettaglio Debutteranno mercoledì Le nuove norme contro i furbetti Del cartellino Soltanto la settimana scorsa Come ricorderete Ne sono stati pizzicati diversi In Calabria Che attestano falsamente La presenza sul lavoro Da venerdì potrebbero già arrivare Le sospensioni con i nuovi termini E in effetti Un rimedio Che va di fretta E ancora Per In termini di paradiso fiscale Contro ogni pronostico Adesso è la Russia Il paradiso fiscale Del calcio europeo Però è chiaro L'europeo delle tasse più basse Il calcio lo vince A sorpresa la Russia In Francia l'11 di Putin È uscito al primo turno Senza brillare Ma i calciatori che giocano in Russia La medaglia per il prelievo più basso Nel vecchio continente Non la toglie nessuno Non ci sono Cristiano Ronaldo Pocba che tengono Su 2 milioni di reddito fiscale Imponibile La retribuzione netta Per un top player Dello Zenit San Pietroburgo Del CSKA Mosca Si riduce di solo 262 mila euro Attestandosi così A 1 milione 740 milioni Appunto Netti Mamma mia Quanti soldi Questi I temi principali Che eventualmente Vorrete approfondire All'interno del Sole 24 Ore Andiamo però I temi caldi Quelli che ci riguardano più da vicino Temi legati alla Calabria Prima pagina Gazzetta del Sud Edizione di Catanzaro Crotone La Mezzia E Vibo In primo piano Catanzaro Mai più Veleni nella discarica Rifiuti e problemi ambientali In primo piano Sulla Gazzetta del Sud Edizione Catanzaro Crotone E La Mezzia Intanto decolla La differenziata sul territorio comunale Raggiunta quota 40% Ottima notizia Corsa per lo smaltimento Del percolato Mentre Bevanti L'iter Dell'ampliamento Andiamo a leggere qualche nota in più Nel dettaglio Dopo il sequestro disposto dalla procura Fu battezzata la discarica A De Veleni Adesso a distanza di anni L'impianto di Alli Viene tenuto sotto strettissima Osservazione E la bomba sembra disinnescata In ballo Ci sono un progetto complessivo Da 67 milioni Bandito dalla regione Ma anche un mini ampliamento Dell'area dedicata Allo smaltimento della spazzatura Che grazie all'inalzamento contestuale Delle percentuali differenziata Sul territorio comunale Si è raggiunto il 40% Avrà una durata In termini di capacità temporale Più lunga del previsto Tema taglio alto Sparatoria a Vibo Ve l'abbiamo raccontata anche ieri All'interno del nostro telegiornale Dopo la notte rosa Feriti in maniera non grave Due giovani disoccupati E poi a Chiaravalle invece Trasversale delle serre L'ANAS accelera Proprio per arrivare Ad una conclusione O quasi In sintesi Dei territori Badolato Passerelle pedonali Su tutti I ponti Storici Abborge invece Acqua Il caldo riporta galla Un problema cronico A Pizzo E lo sappiamo Purtroppo Incidente di Colamaio Si indaga sulle cause A morire Due donne Questa è la prima pagina Della Gazzetta del Sud Edizione Catanzaro Crotone La Mezzia E Vibo Valencia Andiamo a vedere cosa cambia Invece Nell'edizione di Cosenza Sicuramente il titolo In primo piano Con ancora una volta Il duello Occhiuto Di Natale In provincia In difesa del sindaco Bruzio Interviene l'ex vicepresidente Del lente Franco Bruno Mentre il primo cittadino Resta in sella E si oppone All'insediamento Del consigliere Anziano Una Insomma Notizia Ed una situazione Davvero Ingarbugliata Che proviamo A sgarrare A togliere Insomma Qualche A darvi Soprattutto Qualche riferimento In più Con la nostra Ricostruzione Guardate Tra sentenze Dichiarazioni Diffuse Alla stampa Cavilli giudiziari E burocratici Non si dipana La matassa Relativa All'attribuzione Della carica Di presidente Della provincia Di Cosenza Il titolo Più citato In queste ore È quello Del film Di John Landis Una poltrona Per due Con Eddie Murphy E Dana E. Croyd La poltrona È quella Dell'ufficio Più prestigioso Del palazzo Di piazza 15 marzo I due contendenti Come è noto Sono Mario Occhiuto E Graziano Di Natale Il consiglio Di Stato Con il giudizio Di merito Espresso Nella tarda serata Di giovedì 7 luglio Ha confermato Che Graziano Di Natale In qualità Di consigliere Anziano Ha titolo Per rivestire La carica Di presidente Facente funzioni Nel frattempo Però Mario Occhiuto È stato rieletto Sindaco Di Cosenza E sulla base Di una norma Salvaseggio Inserita nello statuto Si è insediato Nuovamente Alla guida Dell'ente Tradotto in soldonio Occhiuto sostiene Che il ricorso vinto Da Graziano Di Natale È ormai superato Dal fatto Che egli è tornato A rivestire La carica Di sindaco Di Cosenza La contesa È dunque Destinata A proseguire Ed è impossibile Prevedere oggi Quali saranno Gli esiti Salvatore Bruno Per la C News 24 Andiamo Ritorniamo Sulla Gazzetta del Sud Prima pagina Edizione di Cosenza Dopo aver Insomma Sentito La situazione Davvero Ingarbugliatissima Legata Alla provincia Una notizia Di sport Con il giovanissimo Fuoco Che domina Silverstone Impresa Del talento Di Cariati Della Ferrari Academy Nella GP3 Sirius Fuoco Proprio Che vince Il suo primo Gran Premio A Corigliano Invece scafista Catturato Dalla Polizia Ancora Dalla provincia Sibariti Destanziati Finanziamenti A favore Dei depuratori A Campora Invece Carenza idrica Esplode Della rabbia Dei residenti Lo vedete La notizia Questa Che rimbomba Un po' Da tutte le parti Della Calabria E poi a Castrovilla Rinfiamme La collina Del santuario Della Madonna Andiamo a vedere Cosa cambia Invece Su Reggio Calabria Il titolo In primo piano Riguarda La città Metropolitana Con le prime liste In campo Le elezioni Ovviamente Accordo Nella PD Che si presenta Unito Il centrodestra Cerca la quadra Tutte le alleanze Se volete approfondire Domenica prossima La scadenza Si moltiplicano Gli incontri A Reggio E in provincia Tra meno Della settimana Scrive Proprio La gazzetta Del sud Scadono i termini Per presentare Tra le liste concorrenti Alle prime elezioni Che ci saranno Il 7 agosto Per il nuovo consiglio Della città Metropolitana Si moltiplicano Gli incontri Per cercare Di partecipare Alla competizione Che interessa Solo I consiglieri E i sindaci Dei comuni Della provincia Ci sono comunque Già alcune certezze Che saranno Ufficializzate a breve Se non cambieranno Le posizioni Il partito democratico Andrà alle urne Con una lista unitaria Dopo l'accordo Tra Giuseppe Falcomatà Nicola Irto E Sebi Romeo Anche il centrodestra Sta lavorando Un blocco unico Ma c'è Qualche angolo Da smussare Più a sinistra Ci sarà una coalizione Più a connotazione Provinciale Con la spinta Del consigliere regionale Gianni Nucera I socialisti Continua la gazzetta Di Zavettieri Hanno trovato l'accordo Con NCD Area popolare Di Giovanni Arruzzolo Il sindaco Di Gioia Tauro Giuseppe Pedà Lancia Italia Unita Che è uno schieramento Trasversale Ancora senza nomi Il primo cittadino Di Locri Giovanni Calabrese È sul Laventino Il 7 agosto Andrò al mare Ha detto E poi ancora Altre notizie Che arrivano Da Reggio L'agenzia È da Riorganizzare Con i beni Confiscati La Corte dei Conti Che consiglia Di trasferire Tutto a Roma Mentre giovedì Torna ai cittadini Piazza Italia Con proprio Il restyling Di questa importante Piazza Di Reggio Nella provincia Gioia Tauro Operazione Vulcano L'enorme nave Al setaccio Quella che Insomma Di fatto Veniva gestita Almeno stando A quello che dicono Gli inquirenti Dalla Drangheta locale A Caolonia Manifestazione Sul ponte Tagliato Dall'alluvione A Motta San Giovanni Invece tentato Omicidio 22enne Ferito A pistolettate Notizie Di cronaca Per chiudere L'edizione Della Gazzetta del Sud Di Reggio Calabria Andiamo invece Sul quotidiano Edizione Proprio Di Catanzaro La Mezzia E Crotone In primo piano Le questioni Tutte interne Alla partito Democratico Dopo la direzione Regionale Di sabato Due scudi Calabressi Per Rammagorno Oliverio E Minniti Sosterranno il segretario In questa fase di tregua Prima del congresso Il direttorio Allontana Per il momento Un intervento Da Roma Gli autoconvocati La strada Della discontinuità Con il passato È ancora Lunga Andiamo a sentirlo Proprio il governatore Oliverio Insieme al sindaco Proprio Gianluca A Callipo Che insomma Come sapete È stato uno Dei primissimi Sostenitori Di Matteo Renzi Sentite Quanto è in discussione Il ruolo Della segreteria regionale In questo momento? Guarda Nessuno ha posto Questo problema Anzi Tutti quanti Quelli che sono intervenuti Sono partiti Facendo la premessa Che non è il problema Del segretario Il problema È di mettere in campo Un progetto Di riorganizzare Il partito Sul territorio E il 28 Il 29 Di luglio Ci sarà Un'assemblea Regionale Aperta Ai segretari Dei circoli Per Fare partecipare Il corpo Più largo Del partito I territori Per costruire Un percorso E anche organizzativamente Assumere le prime misure Io mi auguro Che il segretario Magorno Possa Utilizzare Questa riunione Questo confronto franco Per cambiare Metodi e approcci Rispetto a quelli Attuati fino ad oggi E quindi per dare Alla Calabria Un partito democratico Che funzioni Appieno E che consenta Al governo regionale A livelli istituzionali Di dare risposte Ai cittadini Sonia Rocca La Cil News 24 Ancora in taglio centrale Sul quotidiano del sud Edizione di Catanzaro La Mezzia E Crotone Notizia di cronaca Notte rosa Con le pistole Due feriti Tra la folla Motta San Giovanni Invece giovane vittima Di un agguato Taglio centrale Con a Torino Il capo tifoso Suicida Dopo l'interrogatorio Ha proprio depositato Le sue parole Insomma Su un'inchiesta Legata alle cosche Proprio di Indrangheta Poi i migranti Il modello della Calabria Ha spiegato l'Europa Con due modelli Soprattutto quello di Riace Quello di Gioiosa Ionica Il taglio basso Tabula rasa di Gratteri Vista da Oliverio Ci sono voluti Sei mesi Per sostituire Direttori C'è sempre il rischio Di un avviso di garanzia Il presidente D'accordo Con il procuratore Sui guasti Di certi Burocrati Pubblica Amministrazione Con comportamenti Da mafiosi Dice il procuratore Gratteri Abbiamo raccontato Anche nei giorni scorsi E la replica Del presidente Oliverio Che non si è fatta Attendere Nel frattempo A Fabrizia Dentista morto In Ucraina Le due donne Confessano Sembra insomma Che si sia fatta luce Proprio Su questo delitto Era l'edizione Del quotidiano del sud Di Catanzaro La Mezzia E Crotone Andiamo su Cosenza Il titolo In primo piano Resta lo stesso Cambia La fotonotizia Centropagina Conti Ripuliti Tre indagati In banca Concluse le indagini Il PM Appropriazione In debita Non cambia Sostanzialmente Altro Andiamo a vedere Invece su Reggio Calabria Anche qui Resta La medesima E su Vibo La prima pagina La stessa Proprio Cosa Tutto questo Mentre appunto Abbiamo parlato Di Partito Democratico Abbiamo parlato Di quella che è stata Sabato Scorso La direzione regionale E proprio Durante la direzione regionale Del Partito Democratico C'è stata Un'altra protesta Un'altra avvertenza Di lavoratori calabresi Da un lato Il governatore Che con quel La bacchetta magica Non ce l'ha nessuno Cercava di calmare Gli animi Dall'altro loro Che urlavano a più riprese Lavoro E dignità Sono queste Le due parole chiave Che interpretano Le richieste Dei disoccupati Che ieri hanno protestato Davanti alla location Della direzione regionale Del Partito Democratico Se dentro I democrat Pensavano A come ricucire i pezzi E come affrontare Il referendum Costituzionale Di ottobre Fuori loro Guidati dal sindacato Di base Dal GOP Il gruppo operativo Panetta Il grido del silenzio Esprimevano I loro disagi Le istituzioni Sono distanti Davanti alle sofferenze Della povera gente Spiegavano Lamentando Uno stacco Tra i temi caldi Della politica E le necessità quotidiane Ad avvicinarli Oltre al presidente Oliverio La parlamentare In San Bruno Bosso Che le ha rassicurati In merito al fatto Che in settimana Si discuterà Di una legge Sul contrasto Alla povertà Che dovrebbe prevedere Anche un reddito minimo Tiziana Bagnato Per la C News 24 E adesso la cultura Perché tra i vincitori Dell'edizione 2016 Del premio Tenco C'è anche il cantautore Folk Otello Profazio Tra i massimi Proprio esponenti Della cultura calabrese Guardate Tra i vincitori Dell'edizione 2016 Del premio Tenco C'è anche il cantautore Folk calabrese Otello Profazio Che riceverà Il riconoscimento Il prossimo mese D'ottobre Al Teatro Ariston Di Sanremo Assieme al cantautore Californiano Già componente Del gruppo The Wall of Wood Stan Ridway E dello storico Vignettista E disegnatore satirico Dell'Unità Sergio Staino Il successo Di Otello Profazio Nasce dalla sua innata Capacità Di rielaborare Reinterpretare Molte canzoni Della tradizione Calabrese Meridionale E le poesie In lingua siciliana Di Ignazio Ibutita Molto conosciuto In Calabria e Sicilia Ha partecipato A trasmissioni radiofoniche Negli anni 60 e 70 Per 15 anni Ha scritto Settimanalmente La rubrica Profaziate Nel quotidiano Gazzetta del Sud Prosegue La sua attività Concertistica Con esibizioni In tutto il mondo E' considerato Uno dei cantanti Dialettali Più importanti Del meridione Insignito Del disco d'oro Per aver venduto Oltre un milione Di copie Dell'album Quasi campadaria E' a tutt'oggi L'unico cantante Del genere folclorico A raggiungere Questo traguardo Adesso Questo nuovo Buon riconoscimento Motivo d'orgoglio Per tutti i calabresi Davibo Valencia Per la CNews 24 Complimenti Ad Otello Profazio Andiamo a chiudere La nostra panoramica In rassegna stampa Notizia di sport Notizia che Riguarda da vicinissimo Il Crotone Come avevamo già Annunciato Nei giorni scorsi Arriva Adesso è ufficiale Tonev Attaccante Ex Frosinone Crotone Che nel frattempo Ha presentato Alla stampa Il nuovo tecnico Nicola Andiamo a sentirlo Mi sono trovato Immediatamente Circondato Da una famiglia La cosa che mi ha colpito Di più E' stata sicuramente Quella del fatto Che ognuno di voi Ha proprio cuore E la voglia Di dare una mano A Crotone O comunque Di sentirsi parte Della famiglia Dei crotone Questa è una cosa Che mi ha colpito Da subito In ogni Attento Il lavoro Della società Ma non solo Anche delle persone Che stanno fuori O la voglia E l'entusiasmo Alle stelle Sarebbe Una bugia Del contrario Perché Qui è una specie Di perla Negli anni Che avete fatto Tanti Inserbisie Per una realtà Consolidata Assoluta Ci sono Dei professionisti Estremamente competenti Mi è bastato Pochissimo Soprattutto dopo Che ho conosciuto I presidenti Sono onoratissimo E sono molto Pezzato Di poter lavorare Con il direttore Con Rossino Che io mi ho sempre Sentito parlare Ho sempre visto In qualche modo Un lavoro incredibile Qui sono passato E qui sono passati E transitati Da allenatore A giocatore Che sono arrivati Ai massimi livelli Quindi per me Essendo affamato Essendo apizioso Ma assolutamente Arrivista E quindi conscio Che posso E devo ancora crescere E la location E quindi Da questo punto di vista Sono Molto molto Onorato Di entrare a far parte Della vostra famiglia Ciò che mi auguro Personalmente Di avere le qualità Per poter rappresentare Meglio Perché questo Non è In bocca al lupo Quindi a Davide Nicola e a tutto Il crotone Targato 2016-2017 Oggi Il preraduno Mercoledì Inizierà Di fatto Ufficialmente La nuova avventura Nel torneo Di Serie A Primo storico Campionato In massima serie Per il club Pitagorico Mercoledì In effetti Inizierà Il ritiro A Mocone È rimasta In Calabria Proprio La squadra Pitagorica Non ci sono altri Aggiornamenti E allora a voi tutti Una buona giornata D'Alessio Buon Pass O prossima edizione Della nostra informazione Come sapete Alle ore 14 Grazie Visita il sito www.lacnews24.it Oppure scarica l'app Sul tuo smartphone O tablet Per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 Sulla Calabria Che fa notizia Dal 30 maggio Le edizioni Della cnews24 Cambiano orario Alle 14 Alle 19 e 30 Alle 22 e 30 E alle 24 I calabresi Sono informati A presto che c'è un'estima A presto che c'è un'estima A presto che c'è un'estima